Revisione a cura di QTSS Mi sto chiedendo, per alzata di mano, quanti di voi negli ultimi dieci anni hanno pensato di lasciare tutto e trasferirsi all'estero? Beh, potreste essere sorpresi dal fatto che nell'ultimo decennio sono sempre di più le persone che viaggiano per periodi prolungati, con l'obiettivo di sperimentare nuove vite o periodi di vita in altri luoghi del mondo. Sono forse sempre meno le persone che prendono tre giorni di vacanza, ma invece sempre di più le persone che incominciano a lavorare in smart working e dicono, perché no? Perché non posso incominciare a lavorare da un posto che non sia a casa? Perché magari devo mantenermi in affitto in una città costosissima come Milano, come Amsterdam, come Londra, quando posso spendere gli stessi soldi e andare a stare in un Airbnb, in Sud Italia, in Portogallo, in Costa Rica o in altri luoghi del mondo dove posso spendere molto meno, vivere esperienze diverse e magari addirittura vivere una qualità di vita migliore rispetto a quella precedente. La qualità della nostra vita è definita dalla somma dei ricordi e delle esperienze che abbiamo vissuto. Questa è una citazione in cui mi sono sempre ritrovato, infatti per me viaggiare, conosce nuove persone, esplorare nuovi luoghi, è sempre stata la ricetta per il mio entusiasmo, per la mia soddisfazione, per la mia felicità. Ed è proprio per questo che qualche anno fa, nell'ormai lontano 2019, dopo aver lasciato il posto di lavoro fisso, ho fondato la mia start-up e ho deciso di lasciarmi tutto alle spalle, di non avere più una casa. Ho dunque lasciato la città in cui vivevo da più di quattro anni, Amsterdam, e ho deciso di avere più una dimora fissa, una dimora stabile, e per qualche mese ho continuato a vivere e viaggiare come nomade digitale. Alla fine dei conti, la mia esperienza allora è stata tanto intensa quanto breve. Infatti il mio viaggio allora è finito con l'avvento del Covid, ma è proprio in quel momento che ho momentaneamente smesso di viaggiare nel mondo fisico e come tanti altri ho incominciato a immergermi sempre di più in quello che possiamo definire un mondo digitale. Ma come vi sentireste se vi dicessi che sono già ormai più di vent'anni che viviamo in un mondo che è per l'appunto in parte digitale? Le persone nate come me negli anni 90 lo conoscono molto bene questo mondo, questo universo digitale, in quanto siamo noi stessi la prima generazione di nativi digitali. Siamo la prima generazione che non ha solo imparato dai libri di scuola ma anche dai tutorial di YouTube. Siamo la prima generazione che è passata dal giocare fuori all'aria aperta con gli amici al parchetto sotto casa al connettersi online su console o su computer per giocare con perfetti sconosciuti dall'altra parte del mondo. Siamo la prima generazione che ha cercato persone affine a noi prima online e solo successivamente le incontrate poi in vita reale. Insomma, pensate a come l'avvento della tecnologia abbia tutti gli effetti rivoluzionato la vita di tutti i giorni. Per esempio, la mattina svegliandoci, la prima cosa che facciamo è guardare il telefono. La maggior parte di noi poi passa le successive 8-10 ore a lavorare davanti a un monitor. La sera, non contenti, magari torniamo a casa e accendiamo la televisione per informarci o per intrattenerci. La digitalizzazione della vita di tutti i giorni è quindi ormai inevitabile. E tutti ne parlano, ma solo il 25% degli italiani sa cosa sia. Sto parlando del metaverso. Questo onologismo deriva dalla science fiction degli anni 90. Infatti la sua prima apparizione risale al romanzo di fantascienza la parola metaverso è frutto dell'unione di meta, termine di origine greca, che ha acquisito il valore di trans, ed universo. Il metaverso però è un concetto in divenire che non è ancora nato ma fa già rumore. Pensiamo solamente all'evoluzione e l'avvento dell'internet stesso. Il primo internet, quello degli anni 90, viene chiamato web 1.0 ed è basato su contenuti statici come i primi siti internet, i primi siti blog, i primi motori di ricerca. Il secondo internet, quello dei giorni nostri, è nato negli anni 2000 e viene invece chiamato web 2.0. Questo è basato sull'interazione tra utenti che avviene tramite i social network e le varie applicazioni che possiamo trovare online. Se quindi il primo internet si basa sul concetto di informazione ed il secondo internet si basa sul concetto di interazione, allora l'internet del futuro si baserà sul concetto di partecipazione. ed è proprio in questo momento che il metaverso entra in gioco. Immaginate quindi il metaverso come un grande universo digitale, interattivo ed immersivo, una vera e propria estensione virtuale del mondo reale in cui ogni cittadino, tramite visori 3D o altri dispositivi, è rappresentato da un avatar. Mondo reale e mondo virtuale entrano in contatto per creare un'esperienza personalizzata, immersiva e dall'alto tasso di coinvolgimento. L'obiettivo è un vero e proprio ibrido tra fisico e virtuale, ormai sempre più indistinguibili. Il metaverso però non si limiterà a una singola esperienza, è pervasivo e toccherà quasi tutti gli aspetti della vita umana. La persistenza quindi sarà la caratteristica chiave del metaverso che offrirà e garantirà una continuità di esistenza. La vita nel metaverso non si interromperà nel momento in cui non indosseremo gli occhiali 3D oppure una tuta smart. Non ci sarà un interruttore on ed off. Inoltre, non sarà previsto alcun ripristino. Ogni azione avrà una conseguenza e non sarà possibile tornare indietro. La vita nel metaverso non verrà resettata come in un videogioco. Le azioni e i comportamenti di ogni utente avranno quindi un vero e proprio effetto, un impatto sulla vita di tutti gli altri. Ed è proprio nel metaverso che si evolverà il concetto di socializzazione virtuale che al giorno d'oggi attribuiamo alle interazioni sui social. Non avremo solo a che fare con una rete più o meno estesa di contatti, ma ci approccieremo a persone da tutto il mondo che potremo vedere in tre dimensioni come se fossero in carne ed ossa. Il metaverso, dunque, potrebbe diventare il tassello fondamentale per permettere a questa nuova era di internet, il web 3.0, di concretizzarsi. In conclusione, stiamo attraversando un momento storico dal punto di vista tecnologico che sta rivoluzionando il concetto di home, casa. Prima siamo partiti da una continua espansione del e nel mondo fisico tramite l'apertura dei confini, il viaggiare e il trasferirsi all'estero. Poi, a causa del Covid, abbiamo vissuto una vera e propria implosione, una quarantena che ha limitato i nostri confini e ha ridefinito casa. Espansione prima, implosione dopo potranno solo che portare ad una futura esplosione, un Big Bang, una vera e propria transizione dal mondo fisico di tutti i giorni ad un mondo virtuale, digitale, senza limiti e senza confini. Questo è il metaverso. Grazie.